E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ebbene si ragazzi, vedete che non sono evidentemente dentro casa E scusate sul feto non mi ho fatto una corsa perché tipo volevo farvi vedere il tramonto al lago Molto molto bello E pensate che tipo ho fatto una peggio corsa e poi andai in macchina, prendi il telefono E tipo perché non facciamo un video al lago? Ma potevo anche non farlo perché non si fa un video al lago Però non frega, niente E perciò eccomi qui in questo video, molto velocissimo Ed è semplicemente diciamo un video informazione Per spiegarvi il perché non sono usciti i classici due video a settimana Solamente perché praticamente, come si dice, ho problemi di memoria Non so più dove mettere i video in qualche parola E' un po' un piccolo casino E detto questo, va bene Volevo solamente informarvi del perché non sto caricando video molto regolari Ma tra breve c'è un video in cui spiego ciò che è successo nell'ultima live In cui parlerò di quello che ho fatto in questi ultimi giorni Perché ho fatto un sacco di cose E detto questo, con questo bellissimo tramonto In cui non mi si vede niente, ma non mi importa Io vi saluto Posso ricavere la macchina Noi ci vediamo nel prossimo video E... Bene raga! Noi ci vediamo nel prossimo video